dai fammi ciao si ma non c'è nessuno qua eh un attimo che t'acca la patria bisogna parlare? si ma senti di disturbarsi sempre eh perchè adesso bisogna caricare a partia guarda qua che c'è un gruppo che non mi piace eh ne sgropa ne sgropa voce è vero ne sgropare mordo tutto no si muro tutto non c'è nessuno ah attenzione si avvicina l'uscita con il mitra di mano attenzione attenzione è roba il vetro siamo in vantaggio si qualcuno ha lanciato la bomba ah ah te sei morto però anche ah che c'è mi ha dato un messaggio ragazzi potete vederlo chi se io rompe attenzione ucciso no 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 attenzione attenzione e muore lui tu non mi hai sticcata per gli stiti morti voglio ne senti che parla qua ma ragazzi siete vivi? siete morti? cosa devo fare? sei domenaggio voglia ah 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 guarda quella di rio è la culpa direttamente no no tra un giudice 7 morti fa una buona media e anche un soldato paralitico lecce e anche una fetta da parkinson po' sentimi incasariammi adesso ma che dirà tale oh però dai guarda che sei tu che sei tu che sei tu a dove? ZATCOM nemico localizzato scopritemi di nuovo siamo in vantaggio no non mi pararia tanto abbiamo preso il comando che cosa immortali che cosa mi ha nella mente oh certo è proprio morti canica che sapeva mi ha dato proprio lo dico proprio da microfono lo dico e vai oleee ecco è stato morti sono soprattutto eccolo è è così buon giorno bene sarà se fa la cura chi si sta nessuno è st 00 è è neanche un pallo, non c'è alcuni palli non c'è alcuni palli ma che aiuta che è natale del passato eccolo è morto è morto si, è morto è morto Sì, sono una bomba fisica scantata. non se si ha mai vantaggio si ha mai vantaggio scusami ma te hai esparato su... eh... è lato lo fio a mi però io vorrei che sia stato questo si